La sorella di Bele Rodriguez è stata intervistata dal settimanale Nuovo. Eccoci tornati con un nuovo appuntamento dedicato a Cecilia Rodriguez. Per chi non lo sapesse quest'ultima ha partecipato al Grande Fratello Vip 2 e, purtroppo, in questo reality show ha sollevato molte critiche da parte dei telespettatori perché, dopo aver lasciato in diretta di cui il suo storico fidanzato Francesco Monte, ha intrapreso una nuova relazione amorosa con Ignazio Moser. Vi anticipiamo che la modella argentina di recente ha rilasciato delle dichiarazioni inaspettate sul ciclista Trentino. Cecilia, io e Ignazio non siamo fidanzati Cecilia Rodriguez in questi giorni è stata intervistata dal settimanale Nuovo. Inizialmente la modella argentina ha raccontato di essere profondamente cambiata grazie al reality show condotto da Ilari Blasi, perché prima di partecipare a questo programma era alla ricerca continua di approvazione, invece adesso è sicura di se stessa. Successivamente Cecilia ha parlato della famiglia e del ciclista Ignazio Moser, in particolare la modella argentina ha rivelato che se non dovesse piacere ai genitori del Trentino non si perderà d'animo. Sempre nel corso dell'intervista la sorella di Belen ha fatto una rivelazione inaspettata, perché ha ribadito per l'ennesima volta, che lei e Ignazio non sono fidanzati, e ha precisato che per adesso si stanno conoscendo nella vita reale. Infine, Cecilia ha spiegato di aver chiuso definitamente con il passato, perché ha detto che le storie d'amore cominciano e finiscono, e ha rivelato che, dopo aver lasciato Francesco Monte, si è gettata tra le braccia di Ignazio Moser, perché ha seguito il suo cuore ma ha precisato che sicuramente il GFBIP non è il contesto adatto. Cecilia e Ignazio svelano i progetti per il loro futuro come vi abbiamo appena raccontato, Cecilia Rodriguez non teme il giudizio dei genitori di Ignazio Moser, fortunatamente vi possiamo rivelare che la conoscenza con le rispettive famiglie è andata alla grande. Come avete già intuito, la storia d'amore tra Cecilia e Ignazio sembra essere destinata ad orare a lungo. Per finire, vi riveliamo che in questi giorni l'Argentina e il ciclista hanno raccontato i loro progetti per il futuro al Blum 361 magazine diretto da Alfonso Signorini. In particolare, i due innamorati hanno rivelato che molto probabilmente andranno a vivere insieme a Milano, mentre Ignazio ha annunciato che per Capodanno vorrebbe andare alla Asvedas con Cecilia. Per sapere altre curiosità sui protagonisti del GF Deep 2, vi consigliamo di cliccare sul tasto Segui, posto nella. Grazie.